Due viaggi in parallelo verso l'alto per la nuova nata in casa Pinarello. Un vero gioiello, made in Italy, con una forte componente internazionale. Chris Froome, con la nuova F8, ottavo esemplare della fortunata serie Dogma, cercherà di vincere il prossimo Tour de France, il fortunato risultato di un particolare tavolo di lavoro, composto da Pinarello Lab, Team Sky Pro Cycling e Jaguar Motors, dove ognuno ha portato il suo apporto determinante. Questa è l'ultima nata, è la mia preferita sia come bicicletta che come colora. A me piace moltissimo il rosso e quindi mi piace molto, molto corsa, molta adrenalina. Quindi è la mia preferita assoluta. Un gioiello di tecnologia e aerodinamicità, ma anche di rigidità, bilanciamento e leggerezza, con la quale Icarus 2.0 ha pedalato sulle strade della Maratona delle Dolomiti 2014. Una bici velocissima, guidabilissima, leggerissima e aerodinamica.